ok dovrebbero essere pronti, vediamo oh si un po' complicato tirarli fuori, ecco qua mmm che profumino proviamo a sentire uh brucia, scotta beh dai comunque questo fornetto direi che abbia fatto un ottimo lavoro il biscotto si è cotto alla perfezione quest'oggi ragazzi vorrei proporvi un nuovo argomento che eventualmente potremmo portare sul canale ovvero la fisica tecnica applicata all'anticipazione dell'elettronica questa è una materia che si studia ingegneria e di fatto appunto ho del materiale con cui andare a fare delle video lezioni che possono diventare abbastanza interessanti, possono fungere da ripetizioni per studenti di ingegneria e possono togliere delle curiosità comunque a chi, a tutti coloro a cui interessa la parte insomma teorica sulla dissipazione dei componenti elettronici in sostanza quello che faremo è andare a fare delle ipotesi su certe condizioni di lavoro di un componente elettronico molto spesso parleremo di computer quindi diremo ma prendiamo un processore con un tdp di 90 watt l'elettronica aggiuntiva consuma 150 watt come andiamo a scegliere il dissipatore, qual è il dissipatore ottimale per far funzionare correttamente in condizioni ottime appunto tutta la nostra elettronica in sostanza oltre a ciò siccome mi sono stampato il sommario degli esercizi andremo a vedere ad esempio la scelta di una soluzione di accoppiamento processore dissipatore verifica termica dei componenti di un sistema elettronico ci sono molte cose interessanti perché poi si passa il sistema elettronico con dispositivo di raffreddamento liquido e quindi possiamo vedere se effettivamente da dissipazione senza una soluzione a liquido si hanno prestazioni più o meno uguali se migliore è una dissipazione senza il dissipatore a liquido oppure con il dissipatore a liquido in ogni caso noi per il momento vi condivideremo questo video se vi piace l'argomento lasciateci assolutamente un like che ci serve come feedback e nel caso in cui insomma raggiungessimo un buon numero di like e un buon numero di visualizzazioni è il segnale per noi per continuare appunto questa serie di video e quindi adesso torniamo alla classica introduzione di ogni video quindi ciao a tutti io sono Daniel e bentornati sul canale di progetto e quest'oggi andremo a fare un esercizio di fisica tecnica che si basa sulla scelta di un dissipatore allora vi leggo il problema così ci facciamo un quadro generale della situazione poi andiamo a scrivere i dati e andiamo a risolverlo in sostanza il problema dice questo i dispositivi di areazione interna di un cabinet per apparecchiature elettroniche assicurano una portata di 1,2 metri quadri su minuto questo in sostanza è il flusso d'aria che entra e che esce dal cabinet quindi per misurare la massa d'aria che nel tempo passa all'interno del cabinet si utilizza l'unità di misura metri cubi al minuto metri cubi al minuto in sostanza è un'unità di misura che ci serve a dire quanta aria passa all'interno del nostro cabinet quindi volume fratto tempo nel cabinet sono alloggiati un microprocessore che assorbe fino a 21 watt elettrici vabbè e dispositivi di vario tipo che assorbono complessivamente altri 140 watt quindi se volete andiamo a scriverci un attimo ad esempio i dati scriviamo v che è uguale a 1,2 metri cubi al minuto e se lo andiamo a dividere per 60 perché così lo mettiamo in secondi otteniamo 0,02 metri cubi al secondo poi scriviamo Q che è il calore scambiato dal microprocessore QMP che è uguale a 21 watt e infine in base ai dati che abbiamo detto finora l'altra elettronica quindi Q altro è uguale a 140 watt abbiamo detto ora il problema ci chiede di individuare il più conveniente tra due dissipatori di calore a superficie elettata che abbiamo a disposizione le cui caratteristiche sono illustrate nel seguito sapendo che il microprocessore che è il componente più critico presenta temperatura massima ammissibile a 90 gradi e superficie di scambio termico di un centimetro quadrato e che la resistenza di contatto tra il dissipatore e il microprocessore è riferita all'unità di superficie pari a un centimetro quadrato per grado su watt quindi scriviamo e prendiamo una variabile che ci dà appunto il limite T microprocessore max che è uguale a 90 gradi se andiamo sopra i 90 gradi possiamo buttare via il nostro processore più o meno poi scriviamo R AMP che è l'area del microprocessore abbiamo detto che è un centimetro quadrato quindi 10 al meno 4 metri quadrati poi scriviamo R secondo C che è la resistenza di contatto tra la superficie del microprocessore ed eventualmente un dissipatore che è un centimetro quadrato per grado su watt che è uguale scrivo già la soluzione perché se no dopo poi non ci stiamo sarebbe 0,0001 metri quadri per grado centigrado su watt ora ho preso un microprocessore così da farvi un esempio più insomma pratico che riuscite così ad unire la teoria dell'esercizio alla pratica appunto di un microprocessore vero e proprio allora vedete che qui vabbè io ci ho messo la pasta termica l'avevo utilizzato comunque considerate che quell'area qui dove c'è la pasta termica è l'area del microprocessore quindi l'area che abbiamo scritto qui è appunto quest'area qua ed effettivamente a parte che il costruttore di solito gli da questi parametri riuscite a misurarla quindi un calcolo del genere potreste farlo per il vostro microprocessore la resistenza di contatto è sempre riferita a questa superficie ed è un parametro che in teoria dovrebbe darvi il costruttore del microprocessore e quindi in sostanza è la resistenza che si oppone allo scambio termico sul microprocessore ora nella dissipazione la superficie è veramente molto importante infatti qui ho preso un dissipatore normalissimo qua c'è scritto Pentium TM processor e in sostanza vedete che questo ha una superficie molto maggiore rispetto a quella che abbiamo visto del processore ma non dovete considerare solo la superficie piatta del pezzo di metallo anche le alette costituiscono una superficie aggiuntiva per questo ad esempio si sceglie di implementare delle alette sui dissipatori e poi ovviamente ci sono degli studi legati anche a questo perché se si fanno le alette troppo lunghe poi dopo è difficile che il calore venga scambiato in modo ottimo in quanto sulla punta delle alette c'è una temperatura minore rispetto alla base in ogni caso andiamo avanti eravamo rimasti alla resistenza di contatto tra dissipatore e microprocessore ora ci chiede di stimare nei due casi la massima temperatura raggiunta dal microprocessore e poi ci dice superficie alettata non ventilata ha un R di 1,5 gradi su watt mentre la superficie alettata con ventole che qui dice cioè in realtà bisogna iniziare a distinguerli questa è RdSV e questa è RdCV giusto per distinguerle quindi superficie alettata con ventole ha un R di 0,5 gradi su watt poi ovviamente ci sono alcuni parametri che si vanno ad assumere e questi derivano insomma dalla fisica tecnica in ogni caso potete usare anche quelli che vi do ora si assumono per l'aria la densità pari a 1,15 kg su metro cubo quindi la densità sapete che si misura con Rho Rho è uguale a 1,15 m3 su kg utilizzo un altro colore per cercare di stare più attaccato possibile qui ai dati così manteniamo i dati e di qua scriviamo la soluzione del problema allora calore specifico a pressione costante pari a 1,7 joule su kg grado centigrado quindi C minuscola ovviamente è 1,7 joule su kg grado centigrado e temperatura nell'ambiente esterno compresa tra i 15 e i 30 gradi anche la temperatura esterna vedremo che è importante quindi scriviamo Tamb min che è uguale a 15 gradi e Tamb max che è uguale a 30 gradi a questo punto il problema ci chiede di determinare la temperatura massima raggiunta dal microprocessore nelle due configurazioni indicate quindi le due configurazioni sono date o dalla superficie allettata non ventilata o dalla superficie allettata con ventole come ipotesi si assume che l'aria sia un gas ideale allora andiamo a risolvere questo problema ma in sostanza il problema si risolve nel valutare la massima temperatura che l'aria può raggiungere nel cabinet e a partire da questa la massima temperatura raggiungibile dal microprocessore in funzione del tipo di dissipatore impiegato quindi noi partiremo dalla temperatura dell'ambiente andremo a vedere una volta che l'aria entra nel cabinet a che temperatura arriva ma volendo se abbiamo la temperatura ambiente di 30 gradi mettiamo che all'interno del cabinet per via della dissipazione elettronica arrivi a 35-40 gradi e poi questa temperatura qui ovviamente si riversa sul microprocessore il cabinet costituisce un sistema aperto con un ingresso e un'uscita soggetto ad un flusso stazionario di un fluido la massima temperatura al suo interno può essere stimata a partire dall'equazione di bilancio dell'energia quindi ora separo semplicemente i dati dalla soluzione e andiamo a scrivere l'equazione di bilancio dell'energia quindi qui meno l che è uguale a m h2 meno h1 più v2 quadro meno v1 quadro fratto 2 più g z2 meno z1 nel caso in esame si possono trascurare in favore di sicurezza gli scambi di calore attraverso le pareti del cabinet inoltre le variazioni di energia cinetica e di energia potenziale sono piccole essendo minime le variazioni di velocità e di quota dell'aria e vengono quindi trascurate quindi nell'equazione questa qui è l'energia potenziale e questa qui come vedete è l'energia cinetica siccome non abbiamo delle grandi energie cinetiche soprattutto perché una ventola anche una 120 mm non è che abbia tutta questa potenza e comunque il computer non fa su e giù non si sposta da un punto di vista di altezza e quindi anche variazione di energia potenziale non ce n'è dunque quello che rimane è l'h2 meno h1 poi tipicamente piccolo e di conseguenza trascurabile oppure accumulabile nelle dissipazioni elettriche di vario tipo che avvengono all'interno del cabinet e anche il lavoro fornito dai dispositivi di ventilazione fatta questa promessa riusciamo a ridurre tutta questa equazione all'equazione Q che è uguale a M per h2 meno h1 e dunque la potenza termica complessivamente dissipata dai dispositivi elettronici e da questi trasferita all'aria quindi positiva nelle convenzioni termodinamiche è pari alla potenza elettrica complessivamente assorbita quindi quando noi andiamo a considerare Q dobbiamo considerare questo Q che è dato da QMP più Q altro e dunque 21 watt più 140 watt sono 161 watt ora dobbiamo andarci a calcolare la portata quindi M col pallino sopra spero che si veda è la portata la portata massica ovviamente perché c'è la portata volumica e la portata massica questa è la portata massica e prendiamo M che è uguale a la densità per V e appunto V in questo caso è la portata volumica quindi è uguale a Rho per V che è uguale se fate il prodotto tra questo e la densità che è questa qui che abbiamo scritto sotto 1 e 2 vi dovrebbe risultare 0,023 kg al secondo e dunque della nostra equazione che abbiamo scritto qui e che vogliamo risolvere abbiamo trovato Q e abbiamo trovato M quindi ora quello che ci rimane da fare è trovare H2 meno H1 e infatti in condizioni ambienti tipiche l'aria può essere considerata un gas perfetto ma comunque lo facciamo lo stesso in questo esercizio peraltro il processo avviene a pressione pressoché costante e quindi la variazione di entalpia che è H2 meno H1 può essere valutata come segue quindi H2 meno H1 che è uguale all'integrale sulla temperatura iniziale e temperatura finale di C P di T in DT sì che è meglio mettere la T maiuscola per far capire che è un delta di temperatura e questo qui in sostanza possiamo approssimare l'integrale a CP per T2 meno T1 quindi ora andiamo a considerare la temperatura dell'aria nell'ambiente che all'esterno è compresa tra i 15 e i 30 gradi le condizioni più gravose ovviamente si avranno quando la temperatura è massima e quindi quando T1 è uguale a 30 gradi quindi in in questo caso di conseguenza la temperatura massima raggiunta all'interno del cabinet T2 la troviamo come T1 più Q fratto portata massica per CP quindi in sostanza cosa abbiamo fatto abbiamo preso H2 meno H1 che abbiamo svolto l'integrale abbiamo trovato che è uguale a CP per T2 meno T1 e allora sostituiamo qui CP per T2 meno T1 e troviamo MCP per T2 meno T1 e allora come facciamo andiamo a dividere Q per MCP quindi avremo Q fratto MCP e ci rimane T2 meno T1 dunque T2 qui è già diciamo positivo non ha il segno meno davanti quindi spostiamo T1 dall'altra parte e troviamo appunto T1 più Q fratto MCP in ogni caso svolgendo i calcoli troviamo che qui T2 è 37 gradi quindi in sostanza T2 come ho detto credo anche prima è la temperatura massima raggiunta all'interno del cabine ora vado a riscrivere in blu i dati che abbiamo trovato quindi ad esempio qui T2 che è uguale a 37 gradi eventualmente ci salviamo la portata massica che è uguale a 0,023 kg al secondo e quindi ora vado a cancellare qui per scrivere la parte finale dell'esercizio quindi a questo punto noi abbiamo ipotizzato di fare una configurazione del nostro computer abbiamo scelto certe ventole che ci assicurano questa portata d'aria abbiamo misurato la temperatura dell'ambiente esterna quindi sappiamo che varia da 15 a 30 gradi poi abbiamo alcuni dati sull'aria e ipotizziamo che siamo in ipotizziamo di essere in condizioni ideali quindi la densità di 1,15 metri cubi su kg e un calore specifico a pressione costante di 1,7 joule fratto kg su grado centigrado poi ad esempio prendiamo il consumo massimo del microprocessore in watt e più o meno facciamo una stima del consumo di tutta l'altra elettronica e infine affidandoci ai dati del costruttore del microprocessore riusciamo a trovare ad esempio l'area la resistenza di contatto eccetera eccetera una volta che ci siamo calcolati tutti i dati che ci servono quindi ad esempio la portata massica la temperatura massima all'interno del case del computer cosa facciamo in sostanza dati la temperatura massima dell'aria di raffreddamento che è purtroppo T2 che sono 37 gradi e il dissipatore di calore con la sua resistenza rd la temperatura del microprocessore in condizioni di carico massimo può essere valutata mediante l'analogia elettrotermica quindi la temperatura del microprocessore sarà uguale a T2 più rc la resistenza di contatto più rd resistenza tra il dissipatore e il microprocessore tutto questo moltiplicato per il q del microprocessore quindi non il qmax chiamiamolo così quello dato dalla somma delle due componenti noi in questo caso siccome stiamo considerando la dissipazione quindi la temperatura del microprocessore ci serve solo il consumo termico del microprocessore allora la resistenza di contatto rc noi non ce l'abbiamo abbiamo r secondo c per ricavare rc in sostanza dobbiamo dividere r secondo c per l'area del microprocessore e dovremmo ottenere qualcosa come un grado centigrado su vat che per i calcoli non è assolutamente male in definitiva la temperatura massima raggiungibile dal processore accoppiato al dissipatore senza ventole sarà pari a t mp a che è uguale a t2 più rc più rd però vrd adesso andiamo a considerare senza ventole l'sv sv per q mp se andiamo a svolgere i calcoli troviamo che qui la temperatura del microprocessore per svolgere i calcoli intendo soltanto sostituire dei numeri perché t2 è 37 gradi rc l'abbiamo trovata qui che è un grado centigrado su vat l'andiamo a sommare a rd sv che è questa qui e la moltiplichiamo per qmp che è questo qui quindi è molto semplice otteniamo 89,5 gradi centigradi che non è che sia un ottimo risultato se invece andiamo a impiegare il dissipatore con ventola la temperatura massima raggiungibile dal microprocessore in sostanza cosa dobbiamo fare dobbiamo cambiare solo questo termine che sarà t mp caso b che è uguale t2 per no t2 più rc più rd cv quindi con ventole per q mp che se andiamo a fare i calcoli quindi a sostituire i dati otteniamo 68,5 quindi da un calcolo cioè in realtà questi calcoli sono importanti quando si vanno a costruire ad esempio dei data center sicuramente non vanno sui negozi di elettronica e dicono ma prendiamo questo dissipatore prendiamo ma questo è un po' più bello ovviamente bisogna mettersi a fare dei calcoli e valutare insomma quale sia la scelta più conveniente vedete che qui cioè da una dissipazione qui abbiamo semplicemente tolto la ventola arriviamo a 89,5 gradi vedete che qui la temperatura massima del microprocessore è 90 gradi ovviamente noi siamo sotto quindi potrebbe andar bene ma stiamo andando al limite possibile della macchina cioè se superiamo i 90 gradi sappiamo che il processore dopo potrebbe non andare più e se noi consideriamo che abbiamo valutato la temperatura ambiente massima a 30 gradi naturalmente se questa eventualmente aumentasse aumenterebbe anche T2 e di conseguenza anche questa temperatura qui quindi non abbiamo margine con questa scelta ed è un problema perché ad esempio d'estate se fuori fanno 38 gradi eventualmente anche in casa mettiamo che la temperatura arriva a 31 32 e qui qui ne risentirebbe il microprocessore mentre con la seconda scelta noi abbiamo 68,5 gradi centigradi che non è assolutamente male dato che la temperatura massima è 90 gradi e di conseguenza in questo caso abbiamo anche un po' di margine eventualmente per eventuali casi in cui la temperatura esterna ad esempio aumenti o comunque anche il microprocessore con l'usura tende a scaldare di più quindi ragazzi come avete visto nonostante abbiamo fatto dei calcoli anche un integrale cose del genere cioè non è che sia una cosa veramente complicata e tra l'altro si può andare ad applicare questo esercizio anche a eventualmente un caso reale basta solo raccogliere i dati dunque ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciateci un like come feedback se vedremo che comunque questo video verrà apprezzato continueremo con un'altra serie di video su questa parte della fisica tecnica dove andremo a vedere ad esempio cosa cambia utilizzando la pasta termica cosa cambia utilizzando un dissipatore con heat pipes o se conviene di più scegliere una soluzione con dissipazione a liquido eccetera eccetera quindi mi raccomando lasciateci un like soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriverà la notifica sulla pubblicazione del video per qualsiasi cosa scriveteci assolutamente qui sotto nei commenti seguiteci sui social per eventuali aggiornamenti quindi instagram e facebook e noi ci vediamo nella prossima puntata ciao